Ciao ragazzi e ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video, sono con Alvino stiamo andando a pulire il bar perché lunedì si riapre quindi adesso stiamo andando sei contento? molto veramente si riponisce si finalmente si e niente ragazzi, ci aggiorniamo tra poco aggiornamento ragazzi, allora siamo qui che stiamo cercando di pulire il tutto infatti adesso dobbiamo cercare di vedere un pochettino come ci dobbiamo organizzare e vabbè scusatemi se non vedete la luce dietro ma è saltato tutto l'interruttore ovviamente la fortuna ci continua a perseguire più che altro sfortuna vabbè, comunque ora dobbiamo fare tutta questa parte qua e poi dopo vi faccio vedere una cosa praticamente stiamo sanificando allora, aggiornamento ragazzi stiamo sanificando e quindi c'è una ditta specifica per farci la sanificazione ora vi faccio vedere qualche immagine ok? sanificazione in corso bar, club, piazza Zuntini Nella testa, un buco nero spendo soldi per sentirmi più leggero un nuovo show, spettacolare su un'isola di plastica in mezzo al mare faccio miglia foto ma è vestito uguale in 15 secondi ci si può annoiare non mi ricordo più che cosa devo fare ci sto prendendo gusto per dimenticare senza problemi senza pensieri l'insalatina per restare leggeri senza problemi senza pensieri la posto oggi ma è una foto di ieri tra molti fa lo stress delirio universale basta solo non pensare il mondo finirà non ti deve preoccupare pronti con la prova costume per il riscaldamento globale senza pensieri nessuno vuole problemi aggiornamento ragazzi siamo appena arrivati a casa sono le otte e mezza vabbè comunque ci siamo già messi in bijabra infatti guardate abbiamo fatto tutto quanto adesso dobbiamo andare domani per dare l'ultima pulita è stato bellissimo perché io non l'avevo mai vista fare la sanificazione quindi per me è una novità è stato divertente io mi auguro che vi sia piaciuto anche a voi dando un bacione grande 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 vi raccomando lasciatevi un like e se non l'avete fatto iscrivetevi per non perdere gli altri video ci vediamo al prossimo ciao